lettura della bibbia ciclo di conferenze tenute al centro culturale san fedele di milano da monsignor gianfranco ravasi nel mese di marzo 1996 quarta conversazione sabato 23 marzo seconda lettera a timoteo piano di lettura e temi teologici dedicheremo questa lettura integralmente alla seconda lettera a timoteo già in conclusione della precedente abbiamo ricordato il rapporto vivo intenso personale che intercorre tra l'apostolo e il discepolo e che è testimoniato da questa lettera si tratta in senso stretto potremmo parlare di un testamento di un testamento caloroso che viene che ha tutte le caratteristiche di un messaggio terminale conclusivo anche perché a più riprese nell'interno di questa lettera lo vogliamo vedere subito ci sono tracce di un paolo il quale sta vivendo un'esperienza di prigionia un'esperienza amara sente ormai su di sé anche lo spettro quasi della morte della fine bisogna sottolineare un dato di fatto ci accorgeremo adesso in questi versetti che io vorrei estrarre dalla lettera per indicare la situazione per definire la situazione di paolo è da sottolineare che la situazione di paolo è particolarmente tesa non siamo quindi nell'interno di quel domicilio coatto a cui era stato condannato e che costituiva l'ambientazione della finale degli atti degli apostoli come ricorderete là allora si ricordava che paolo era in una situazione sì di controllo ma anche poteva ricevere liberamente tutte le persone che egli desiderasse incontrare infatti se vogliamo possiamo rileggere quelle ultime righe del capitolo ventottesimo degli atti degli apostoli nei versetti 30 e 31 dove si dice che paolo trascorse due anni interi nella casa che aveva preso a pigione a roma e accoglieva tutti quelli che venivano a lui annunziando il regno di dio e insegnando le cose riguardanti il signore gesù cristo con tutta franchezza e senza impedimento è ancora uno dei segni della sostanziale simpatia che si cerca di dimostrare nei confronti dell'impero romano proprio per mostrare che il cristianesimo non era una religione che si sarebbe opposta con la violenza alla struttura imperiale abbiamo già parlato di questo orientamento che non è comunque costante nell'interno del nuovo testamento perché accanto a questo atteggiamento paolino o di luca c'è anche l'atteggiamento dell'apocalisse che è fiera condanna nei confronti dell'impero romano ecco invece la situazione attuale ben diversa 1 8 non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al signore nostro né di me che sono in carcere per lui ma soffri anche tu insieme con me per il vangelo aiutato dalla forza di dio paolo è in catene quindi è in prigione in senso stretto andiamo avanti e leggiamo nei versetti 16 e 17 il signore conceda misericordia la famiglia di onesiforo perché egli mi ha più volte confortato e non si è vergognato delle mie catene anzi venuto a roma mi ha cercato con premura finché mi ha trovato si cita onesiforo un personaggio non altrimenti noto che viene menzionato anche in finale di lettera in 4 19 quando si dice che egli era della città di efeso questo personaggio che come ho detto nel nuovo testamento scompare è presente solo in questa lettera diventerà invece un personaggio abbastanza significativo di un apocrifo molto noto e molto popolare gli atti di paola di paolo e di tecla onesiforo è citato perché ha confortato paolo nella prigione l'ha visitato e non si è vergognato di andare a trovare un carcerato uno che era in catene ancora prendiamo il capitolo secondo i versetti 8 9 ricordati che gesù cristo della stirpe di davide è risuscitato dai morti secondo il mio vangelo a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore ma la parola di dio non è incatenata e in questa clausola in questo finale si sente quasi l'eco si sente l'ardore dell'apostolo beh io sarò con le braccia con le mani incatenate ma la lingua non la si può incatenare e la parola di dio nonostante gli apostoli che sono in prigione può continuare ad essere annunziata ma vorrei far notare soprattutto un termine greco che è qui presente paolo si definisce come un malfattore in greco abbiamo kakurgos che è la definizione tecnica per indicare un condannato per delitti comuni forse si ha quindi un riferimento completo anche con concreto anche al capo di imputazione che era stato sollevato nei confronti di paolo dalla dall'appello dal tribunale d'appello romano a cui lui aveva fatto ricorso come ben sapete e da ultimo vorrei leggervi ancora nel capitolo quarto i versetti 16 18 nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito tutti mi hanno abbandonato non se ne tenga conto contro di loro il signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i gentili e così fui liberato dalla bocca del leone il signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno a lui la gloria nei secoli dei secoli amen e qui si conclude la lettera in senso stretto ecco c'è una anche qui un elemento significativo da sottolineare la prima udienza paolo non è soltanto circondato dal terrore sempre di un giudizio non è circondato soltanto da questa specie di cortina fredda che è quella dei suoi carcerieri egli è circondato anche dalla solitudine dei suoi compagni di fede prima ha ricordato qualche d'uno che si è fatto vivo ma nel momento della prima udienza non c'era nessuno presente dei cristiani di roma che lo potesse sostenere ed egli allora ringrazia dio però perché sembra che il processo stando a questa indicazione il processo non stia avviandosi verso la condanna capitale infatti dice almeno in questa prima udienza o in una prima fase del processo probabilmente il pubblico ministero chi per esso ha chiesto non la condanna a morte perché dice così fui liberato dalla bocca del leone così almeno interpretavano i padri tuttavia questa dichiarazione che è stata anche interpretata in passato sono stato liberato dalla bocca del leone ed è stata interpretata in passato come se fosse sono stato liberato da nerone sono stato liberato da satana in realtà non la si può prendere come una indicazione precisa di tipo giuridico perché è una frase fatta è una formula fissa che noi troviamo spesso nel salterio essere liberati dalla bocca del leone vuol dire essere liberati da un gravissimo pericolo comunque paolo si sente solo abbandonato ma comunque accanto a sé dice il signore mi è sempre stato vicino sempre accanto a sé ha avuto cristo come vedete da questi tratti che io ho voluto sottolineare che sono dispersi nell'interno della lettera sia una situazione di grande tensione e soprattutto sia la rappresentazione di una seconda prigionia di paolo di cui non si ha notizie altrove negli atti degli apostoli perché gli atti degli apostoli si chiudono solo con quel domicilio coatosi in roma però anche con una certa serenità da parte dell'apostolo ecco noi ora possiamo cominciare a percorrere questa lettera partendo da dalla cornice io vi ho detto che è una testamento lo dimostreremo adesso nella lettura però è anche circondata da elementi che sono squisitamente epistolari cioè c'è anche l'aspetto di lettera indirizzata a questo discepolo a questo collaboratore molto amato come timoteo lo possiamo vedere dall'incipit dall'inizio della lettera e dall'explici dalla finale la lettera comincia così paolo apostolo di cristo gesù per volontà di dio per annunziare la promessa della vita in cristo gesù al diletto figlio timoteo grazia misericordia e pace da parte di dio padre e di cristo gesù signore nostro è il tipico indirizzo col tipico saluto cristiano carico come sentite anche di passione misericordia e pace viene donata a questo discepolo da dio per mezzo del saluto di paolo e la finale che è molto concreta è anch'essa di tipo chiaramente epistolare come se fosse un biglietto terminale saluta o timoteo prisca e aquila e noi aquile e priscilla sono è una coppia che noi già conosciamo molto bene dagli atti degli apostoli capitolo decimo ottavo dal capitolo sedicesimo della lettera ai romani dove citata in finale era una delle coppie di collaboratori di paolo tra i più amati era venuta persino a corinto quando era stata forse espulsa da roma per un decreto di espulsione degli ebrei prisca e aquila e la famiglia di onesiforo erasto è rimasto a corinto trofimo l'ho lasciato ammalato a mileto affrettati a venire prima dell'inverno prima dell'inverno perché durante l'inverno la navigazione veniva sospesa quindi c'è anche un'indicazione concreta di tempo ti salutano eubulo pudente lino claudia e tutti i fratelli il signore gesù sia con il tuo spirito la grazia sia con voi ecco con queste ultime righe si vede anche concretamente l'apparire di queste figure che sono segnate solo per nome pensate negli atti negli apostoli e nelle finali della lettera di paolo quanti nomi ci sono di cristiani che possiamo definire anonimi anche se hanno il nome perché non appariranno mai più ma che fanno parte di questa cristianità delle origini che come vedete avevano soltanto la presenza di maschi di fratelli ma anche di donne come questa non altrimenti nota claudia o come appunto prisca o priscella la moglie di aquila ecco definita grosso modo definito la cornice generale paolo in catene una lettera che è testamento anche se ha il profilo epistolare a questo punto prima di entrare nel messaggio vorrei anche dirvi darvi un'indicazione per la lettura integrale noi leggeremo molti brani adesso però per una lettura integrale da condurre da parte vostra ecco potremmo idealmente immaginare questo piano di lettura in quattro parti primo il ritratto del vero pastore questo ritratto è disegnato nel capitolo primo dal versetto terzo fino al capitolo secondo versetto tredici è un bel ritratto si trovano anche delle tracce dello stile dei discorsi di addio si sente un certo patos in questa pagina si vedono anche dei fremiti di passione da parte di paolo e anche di nostalgia questa è la prima pagina dal capitolo primo versetto terzo dopo appunto il saluto iniziale fino al capitolo secondo versetto tredici secondo abbiamo un secondo ritratto che invece è un ritratto oscuro è una polemica piuttosto aspra che viene fatta nei confronti dei dissidenti degli eretici chiamiamoli così quindi il ritratto delle dell'errante il ritratto del dissidente il ritratto del cristiano e anche non solo del cristiano vedremo che ha abbandonato la sua dignità e questo lo troviamo soprattutto in due quattordici da due quattordici fino a tre nove terzo nella terza parte la terza pagina ideale di questa lettera abbiamo un ritratto invece ancora del pastore ma in questo caso il ritratto del pastore ai lineamenti di paolo e paolo che in pratica si propone come il prototipo dei veri pastori tre dieci quattro cinque e anche in questo brano troviamo per contrasto il ritratto il disegno di coloro che invece sono falsi pastori e da ultimo dopo quattro cinque abbiamo un'ultima parte è un frammento potremmo dire sono pochi versetti capitolo quarto versetti sei diciotto dove incontriamo un brano ancora autobiografico di paolo in cui si descrive il presente e il futuro che lo attende idealmente potremmo dire che siamo in presenza di due ritratti fondamentali il ritratto dell'apostolo del pastore con tutti gli aspetti soggettivi che riguardano la storia di paolo e secondo dall'altra parte abbiamo il ritratto di coloro che invece il ritratto deforme di coloro che hanno deviato cominciamo allora ad esaminare questa lettera cercando di cogliere il messaggio e partiamo come sempre dal messaggio teologico perché queste lettere pur essendo una lettera così personale pur essendo una lettera appassionata pur essendo uno scritto testamento per paolo è sempre radicato è sempre fondato questo scritto nel messaggio cristiano fondamentale e allora prenderemo in due testi vi leggerò che dimostrano questo questo aspetto teologico e vedremo anche quella quale verità si insegna prenderemo innanzitutto il capitolo primo dal versetto 6 al versetto 14 capitolo primo versetto 6 14 che leggeremo porzione per porzione cominciamo innanzitutto con il ricco l'enunciato del tema quale sarà il tema teologico fondamentale sarà questo c'è un progetto divino di salvezza che si attua in cristo noi non ci troviamo sospesi su una storia la quale prosegue insensatamente verso un approdo che può essere il baratro del nulla noi ci muoviamo all'interno di un disegno e questo disegno è stato realizzato in cristo per cui quando anche io fossi nella sconfitta il disegno di dio continua e non mi permette mai di disperarmi ecco le radici teologiche vedete che sono e lo vedremo spesso in questa lettera come sempre in paolo che sono il principio dell'impegno esistenziale io ho fiducia io mi impegno ho una vita donata dedicata proprio perché c'è una ragione di partenza proprio perché c'è un senso e possiamo veramente dire che paolo sia stato continuamente alla ricerca di un senso ma anzi diciamo paolo non è più alla ricerca di un senso dopo la vicenda di damasco della strada di damasco paolo è continuamente nell'affermazione di un senso un senso trovato che è quasi come una lampada che illumina tutta l'oscurità del suo orizzonte anche quando esso è un orizzonte tenebroso e cupo cominciamo con leggere i primi versetti dal 6 all'8 del capitolo primo c'è un aspetto interessante che riguarda timoteo sono frasi che avete sicuramente sentito e sono state spesso usate nell'interno della tradizione cattolica per una ragione teologica che in paolo forse non era primaria farebbe uno dei passi che afferma che dimostra che attesta l'esistenza del sacramento dell'ordine il sacramento del sacerdozio ministeriale cristiano in questa linea in questo senso il testo è stato letto dal concilio tridentino nella sua ventitresima sessione quando appellando a questo testo ha affermato il sacramento dell'ordine del sacerdozio sentirete che accanto però all'esaltazione di questo carisma di questo dono particolare c'è anche però sempre il peso della sofferenza perché il ministro è anche colui che deve testimoniare con la sua persona per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono il carisma in greco il carisma il dono di dio che è in te per l'imposizione delle mie mani l'ultima volta quando noi abbiamo letto la prima lettera a timoteo nel capitolo quarto al versetto 14 si diceva che questo dono della missione del discepolo era stato ricevuto attraverso l'imposizione delle mani di tutti i presbiteri ora paolo invece dice che timoteo l'ha ricevuto soprattutto quindi attraverso l'imposizione delle mani dell'apostolo potremmo quasi dire che anche si sottolinea il fatto che l'ordinazione sacerdotale avviene attraverso il vescovo attraverso l'apostolo per eccellenza sia pure col collegio di tutti i presbiteri andiamo avanti e sentiremo come subito col dono dello spirito l'apostolo il testimone il ministro ha con sé anche il peso amaro della sofferenza dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza ma di forza di amore e di saggezza non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al signore nostro né di me che sono in carcere per lui ma soffri anche tu insieme con me per il vangelo aiutato dalla forza di dio abbiamo già letto in inizio questo versetto ora lo riproponiamo e soprattutto c'è quella parola che è passibile ormai di due significati potremmo dire anche se unico è significato in greco non vergognarti dunque della martiria della testimonianza e questa testimonianza è il martirio anche a cui paolo sente ormai di essere votato una testimonianza che comprende anche il sangue e a questo punto dopo aver fatto questa dichiarazione ecco la ragione teologica perché tu devi avere forza perché hai in te questo dono dello spirito devi compiere la tua missione e la motivazione teologica la troviamo nell'interno dei versetti 9 11 dio infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa non già in base alle nostre opere e voi immaginate sentite che questo è come un piccolo tratto quando anche non avesse scritto questa lettera paolo però è fuori dubbio che il discepolo in tutti i modi riflette la teologia di paolo noi siamo stati chiamati non in base alle nostre opere ma secondo il suo proposito il suo progetto e la sua grazia grazia che ci è stata data in cristo gesù fin dall'eternità ma che è stata rivelata solo ora con l'apparizione del salvatore nostro gesù cristo egli ha vinto la morte ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del vangelo del quale io sono stato costituito araldo apostolo e maestro notate la solennità di questa dichiarazione e notate il cuore del messaggio un messaggio che è centrato tutto sul disegno di dio realizzato in cristo un disegno che è partito dall'eternità che si affonda nella distesa dei secoli che ci precedono anzi che li supera perché nella mente eterna ed infinita di dio ma questo disegno e questo progetto ora in questo momento si sta realizzando e noi ne siamo testimoni e noi ne siamo anzi destinatari e avete anche forse individuato che quest'azione efficace e gratuita della salvezza che viene fusa in noi e del nostro destino che viene condotto da cristo viene espresso attraverso probabilmente la citazione di un credo di uno di quei tanti credo di quei le tante professioni di fede che abbiamo visto seminate qua e là in queste lettere soprattutto quando abbiamo letto la prima lettera timoteo infatti se voi provate a prendere questa frase la frase che è racchiusa nel versetto 10 sentiamo l'apparizione del salvatore nostro gesù cristo il quale ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del vangelo è una professione di fede pasquale e da ultimo proprio di fronte a questo proprio perché la nostra vocazione è immersa nel nell'aura di dio nell'aura della grazia nell'aureola della salvezza proprio per questo noi dobbiamo rispondere con la fedeltà e sentirete per due volte risuonare quella parola che già conosciamo che abbiamo spiegato l'ultima volta che è una parola di dal punto di vista filologico una parola tecnica una parola giuridica la parola del deposito quel deposito che è in pratica la consegna della verità che c'è stata data che c'è stata fatta è stata fatta alle nostre mani fragili alle nostre menti incerte alle nostre labbra spesso falsificanti ed è questa la grande responsabilità il grande timore e anche il grande dramma che vive la chiesa di rapaolo perché alcuni questo deposito lo stanno deformando lo stanno dilapidando non ne sono garanti autentici ecco allora le parole dei versetti 12 14 è questa la causa dei mali che soffro ma non me ne vergogno so infatti a chi ho creduto e son convinto che egli è capace di conservare fino a quel giorno il deposito che mi è stato affidato sentite anche la mia il mio dovere di tenere tra le mani in maniera intatta questo deposito dipende da lui dal cristo e lui non è semplicemente un'oscura presenza che appare al mio orizzonte o nel cielo della mia vita io so io so dice paolo a chi ho creduto cioè se tutta la consapevolezza del suo pensiero della sua decisione e io so tra l'altro è anche il verbo della proclamazione della fede nell'antico testamento io so a chi ho creduto e continua paolo prendi come modello o timoteo le sane parole che hai udito da me con la fede e la carità che sono in cristo gesù e anche tu come faccio io custodisci il buon deposito con l'aiuto dello spirito santo che abita in noi paolo al discepolo e come vedete questa trasmissione questo legame è tutto fatto è tutto costruito su questo deposito questo tesoro che abbiamo tra le mani su questo scrigno che è uno scrigno di verità come diceva san giovanni crisosto secondo brano che voglio proporvi lo troviamo nel capitolo secondo nel capitolo secondo dal versetto 8 al versetto 13 è un bellissimo testo anche questo è un testo che ha al suo interno ancora una volta il segno oscuro della sofferenza della persecuzione come vedete questa lettera è proprio scritta con amarezza con dolore ma anche con grande serenità paolo carcerato è anche convinto che la meta ultima della sua esistenza non è mai nell'interno di quello spazio limitato dove egli è imprigionato e non è neppure nel groviglio del dolore della sofferenza e delle vergogne anche delle persecuzioni che deve subire cominciamo leggendo i versetti 8 10 e poi vedremo ancora in questo caso che la spiegazione della perseveranza e della forza che il discepolo deve avere è di tipo teologico cioè non ci sono ragioni umane tant'è vero che le ragioni umane sapete sì qualcuno è venuto a visitarmi gli altri mi hanno abbandonato e tu sei lontano e non puoi se cerca di venire a me prima che capiti l'inverno ma se timoteo non può venire è lontano quindi c'è una ragione che è profondamente spirituale cioè c'è una carica interiore che permette a paolo di affrontare persecuzioni nella persecuzione nella perseveranza e la radice vedremo è espressa in un bellissimo inno in un frammento ancora una volta secondo quello stile di queste lettere che quando devono dimostrare qualcosa dal punto di vista teologico ricorrono a dei temi a dei testi che sono già conosciuti che la comunità cristiana in qualche modo potrebbe quasi andare a cercare nell'interno del suo deposito del suo messaggio che ha ricevuto attraverso la catechesi ricordati leggiamo nei versetti 8 10 che gesù cristo della stirpe di davide è risuscitato dai morti secondo il mio vangelo a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore ma la parola di dio non è incatenata come già abbiamo letto perciò sopporto ogni cosa per gli eletti perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in cristo gesù insieme alla gloria eterna ecco la finale vedete di questa testimonianza di sofferenza è già aperta alla parola gesù cristo la parola salvezza la parola gloria eterna ed è a questo punto che allora ecco la citazione con quella formula che già conosciamo presente spesso nella prima lettera timoteo certa è questa parola due punti ed ecco la testimonianza nella seconda parte dai versetti 11 13 paolo qui usa una specie di è difficile dire sembra una forma innica un frammento di un inno che è costruito un frammento innico cristologico pasquale che è costruito con lo stile semitico perché è fatto per paralleli e vi accorgerete nella lettura che ci sono quattro ei in greco cioè quattro se sentiteli parallelo però è molto facile da sentire proprio una specie di scansione quasi processionale si va avanti anello per anello scalino per scalino passo per passo certa è questa parola se moriamo con lui vivremo anche con lui se con lui perseveriamo con lui anche regneremo se lo rinneghiamo anche gli ci rinnegherà se noi manchiamo di fede egli però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso ed è bellissima questa finale perché come vedete la finale non è più al futuro la finale è più al presente noi possiamo fare anche possiamo essere anche traditori possiamo persino far morire la nostra fede però egli non ci abbandonerà egli è fedele per eccellenza e vedrete vedete però che la prima parte soprattutto la parte positiva la seconda sono due e due frasi come vi siete accorti che sono in contrasto tra di loro apparentemente la prima e la celebrazione di tutto ciò che noi abbiamo se moriamo avremo la vita se perseveriamo regneremo e dall'altra parte se tradiamo tenete ben presente che egli ci rinnega però se manchiamo di fede lui resta continuamente fedele e di fronte al tradimento dell'uomo che se ne va c'è sempre comunque questa presenza della fedeltà di dio che non viene mai perché dice dio non può rinnegare se stesso non è come la misera fragile fedeltà dell'uomo che è sottoposta a tanti tradimenti ecco questa era era un po il primo tema che io volevo proporvi la base teologica come vedete sempre quella ricordare che noi facciamo parte di un progetto che è stato attuato in cristo e questo progetto è un progetto di vita è un progetto di gioia al di là della morte al di là del dolore secondo tema che vorrei proporvi il secondo tema invece è il ritratto del vero pastore il ritratto noi lo troviamo ce n'è più di uno di questi ritratti e l'abbiamo detto prima quando abbiamo disegnato lo spartito ideale il piano di questa lettera io ne voglio scegliere uno perché è la rappresentazione di ciò che deve fare soprattutto diciamo il presbitero il vescovo il vero ministro di dio e indirettamente anche il discepolo e vi accorgerete che l'impegno è sostanzialmente uno solo non si insiste per esempio sui sacramenti sembrano già sembra già che sia una cosa pacifica questa il ministro di dio deve soprattutto avere come missione quella della didascalia cioè dell'insegnamento della parola e un insegnamento che sia autentico che sia genuino che non sia deformato e quindi che deve avere come base sentirete solo la scrittura e nient'altro e quindi riusciamo a capire perché la chiesa dell'origine ha dato così tanta importanza al kerigma all'annuncio cristiano è l'elemento fondamentale che costruisce la chiesa il ministro di dio non deve disperdersi in tante questioni secondarie non deve disperdersi in tanti elementi marginali la sua è la funzione la missione della parola e adesso sentirete questo brano io ve lo voglio leggere tutto di fila perché sentirete nell'interno una bellissima definizione della scrittura della bibbia e anzi secondo la tradizione cristiana successiva tradizione teologica successiva avremmo qui la prima solenne dichiarazione della ispirazione delle scritture cioè dell'ispirazione divina del passaggio nelle scritture dello spirito di dio che trasforma le parole umane il rivestimento delle parole umane le trasforma facendole diventare grembo per contenere l'infinita ed eterna parola di dio il flusso il fluire il respirare dello spirito di dio vi ricordo tra parentesi e questo tema dell'ispirazione lo si può ritrovare vi invito a leggere questo brano quando avremo riusciremo ad arrivare anche a queste lettere lo faremo nella seconda lettera di pietro al capitolo primo nei versetti 19 21 c'è questo stesso tema il tema della parola ispirata che deve essere il principio fondamentale a cui fare riferimento dice proprio come se fosse una lampada nel cammino oscuro della notte ascoltiamo il testo capitolo terzo versetti 10 16 ritratto del vero pastore tu invece diversamente da coloro che deviano dalla verità tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento subito nell'insegnamento nella condotta nei propositi nella fede nella magnanimità nell'amore del prossimo nella pazienza nelle persecuzioni nelle sofferenze come quelle che incontrai ad antiochia iconio e alistri paolo anziano guarda un po' a tutta la sua storia piuttosto tormentata in asia minore tu sai bene quali persecuzioni ho sofferto eppure il signore mi ha liberato da tutte del resto tutti quelli che vogliono vivere pienamente in cristo gesù saranno perseguitati ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio ingannatore ingannati nello stesso tempo vedete sempre questo filo nero anche della dell'incubo della persecuzione della sofferenza però si era partiti con quella parola insegnamento ed ecco che paolo la riprende e diventa il suo vero messaggio il messaggio fondamentale che gli lascia a timoteo tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto sapendo da chi l'hai appreso e in questo da chi l'hai appreso c'è naturalmente non soltanto tutta la tradizione della chiesa la catechesi della chiesa ma c'è naturalmente anche la menzione in quella pagina iniziale in quelle righe iniziali che abbiamo già avuto occasione di citare per esempio in 1 5 quando si diceva mi ricordo infatti della tua fede schietta fede che fu prima della tua nonna loide e poi in tua madre unice e ora ne sono certo anche in te e quindi anche una fede che è trasmessa dalla famiglia dalle generazioni le quali sono come dice il concilio vaticano secondo sono i genitori sono i primi precone sfidei i primi annunciatori della fede prima ancora che poi subentri la comunità con la sua opera di perfezionamento e di approfondimento quindi rimani in saldo in ciò che hai appreso ciò che hai appreso fin dall'infanzia tu conosci le scritture le sacre scritture queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene per mezzo della fede in cristo gesù sentite sempre linguaggio di paolo anche chi non conosce molto della teologia di paolo sa che questa è la frase sua tipica come si ottiene la salvezza non per mezzo delle opere ma per mezzo della fede in cristo gesù tutta la scrittura infatti è ispirata da dio è utile per insegnare convincere correggere e formare la giustizia perché l'uomo di dio sia completo e ben preparato per per ogni opera buona vedete la funzione della scrittura prima di tutto la scrittura è ispirata da dio prima grande dichiarazione qualche d'uno legge in quanto è ispirata da dio è utile per insegnare comunque nell'uno nell'altro caso sia che la dichiarazione sia diretta sia che la dichiarazione sia indiretta c'è la consapevolezza che la scrittura ha dentro di sé la scintilla di dio in greco abbiamo proprio theopneostos è il soffio di dio pneuma il soffio divino che passa nelle scritture e questa scrittura però è anche quella ed è in questo senso suggestiva questa rappresentazione della funzione delle scritture le scritture devono creare l'uomo maturo l'uomo compiuto l'uomo di dio completo e ben preparato per ogni opera buona il concilio vaticano secondo nella dei verbum il documento che la costituzione che è stata promulgata per la sacra scrittura come dice il nome dei verbum la parola di dio facendo riferimento a questo testo ricorda che la scrittura ha una capacità educativa di correzione di ammaestramento cioè non deve essere solo qualcosa che passi attraverso la conoscenza della verità ma che passi anche attraverso l'adesione della volontà non è soltanto campo di esercitazione degli esegeti dei teologi ma deve essere anche guida per il cammino dell'esistenza del credente e questo elemento della parola riappare indirettamente nel terzo tema che io vorrei proporre il terzo tema è il ritratto dell'eretico il ritratto del deviante ritratto del dissidente di questa figura che sta ormai infiltrandosi nella comunità cristiana sta in qualche modo in inquinandola qui avremo io adesso vi leggerò due passi perché abbiamo due ritratti diversi del falso cristiano o del cristiano de genere cominciamo con quello che troviamo subito dopo nel capitolo quarto i versetti 1 5 dove ancora c'è comunque riferimento alla parola i falsi maestri la degenerazione quindi del messaggio cristiano ti scongiuro davanti a dio a cristo gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione il suo regno annunzia la parola ancora una volta insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna ammonisci rimprovera esorta con ogni longanimità e dottrina e qui abbiamo tutto quanto è stato detto prima il ministro il presbitero il vescovo è per eccellenza il ministro della parola verrà giorno infatti e qui comincia la pagina l'elemento oscuro di questo ritratto verrà giorni infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina ma per il prurito di udire qualcosa gli uomini si circonderanno tra parentesi la traduzione si circonderanno di maestri è una traduzione estremamente generica in greco abbiamo il verbo episoreuo che vuol dire letteralmente raccogliere a mucchi ammucchieranno saranno una legione i ciarlatani e nella storia della della religiosità quanto questo verbo più che circondare deve essere proprio letto nel senso di mucchi sono sono cumuli di falsi maestri gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie rifiutando di dare ascolto la verità per vorgersi alle favole tu però vigila attentamente sappi sopportare le sofferenze compi la tua opera di annunziatore del vangelo ancora una volta adempi il tuo ministero penso che non ci siano dubbi nel vedere chiaramente da un lato come la funzione del discepolo è quella di essere l'annunziatore della parola e dall'altra parte il grande rischio che c'è nella comunità è che siano tanti i ciarlatani che parlano di teologia che parlano di religione però in realtà annunciano favole annunciano miti miti greci casomai e qui c'è naturalmente tutta la polemica nei confronti di una religiosità che come vedete non conserva più il deposito è quello che anche si verifica spesso ai nostri giorni quando vediamo contrabbandato come religione come messaggio cristiano realtà che in verità sono favole sono chiacchiere e questo non è soltanto nell'interno delle sette dei gruppi è nell'interno della stessa comunità ecclesiale la conoscenza religiosa mai come in questo tempo bisogna dire è di bassissimo profilo e tutto ciò che cattura l'attenzione è casomai ai bordi della vera religiosità al di là della buona fede o meno di quelli che ci cascano che continuano a cercare i mucchi di maestri di seconda mano il ritorno quindi alla serietà la profondità dell'annuncio è indispensabile però c'è un altro elemento negativo che si incunea nella comunità ed ecco allora che il ritratto oscuro ha nel capitolo terzo nei versetti 1 7 l'altro brano che voglio leggervi 3 1 7 ha anche una dimensione di tipo morale infatti in questo brano abbiamo la rappresentazione di ben 18 vizi gli studiosi sono andati a calcolare nell'interno delle lettere pastorali tutti i vizi che paolo denuncia li hanno elencati sono 28 7 per 4 secondo la simbolica biblica è la totalità totalità dei punti cardinali 4 totalità della pienezza una pienezza oscura una pienezza abissale in questo è il culmine quasi dell'ignominia 7 per 4 28 sono qui ne abbiamo ben 18 naturalmente paolo per fare queste liste dipende curiosamente dal mondo giudaico e dal mondo della dell'etica ellenistica l'etica greca dove c'erano i cataloghi dei vizi delle virtù e gli elenca riprendendo dei da là sempre per mostrare e non dimenticate quanto abbiamo già avuto occasione di dire che tante volte il ritratto del cristiano che si trova nelle lettere pastorali è un ritratto che più che basarsi su grandi qualità mistiche si basa su grandi qualità umane e quindi su virtù che sono virtù di decoro immaturità personale di umanità completa la parola di dio ci porta all'uomo di dio nella sua forma completa abbiamo letto poco fa ascoltiamo questo brano sulla decadenza dei costumi è una specie di descrizione dei bassi fondi ricordate se volete avere il una pagina parallela delle lettere assolutamente paoline senza oggetto di discussione capitolo primo della lettera ai romani nel capitolo primo nei versetti 29 31 per esempio avete una lunga lista di altre infamie che emergono che vengono quasi sollevate diremmo da come se fossero dei funi oscuri che salgono dalla grande roma imperiale devi anche sapere scrive ancora timoteo che negli ultimi tempi verranno momenti difficili gli uomini saranno e qui si può fare quasi un esame di coscienza anche della nostra società perché vizi e virtù sono eterni ripetono sempre ciò che è l'uomo gli uomini saranno egoisti amanti del denaro vanitosi orgogliosi bestemmiatori ribelli e genitori ingrati senza religione senza amore sleali maldicenti intemperanti intrattabili nemici del bene traditori sfrontati accecati dall'orgoglio attaccati ai piaceri più che a dio con la parvenza della pietà mentre ne hanno rinnegata la forza interiore e questa finale è intinta un po nel vetriolo contro l'ipocrisia religiosa hanno l'aspetto della devozione ma hanno rinnegato l'anima profonda la forza interiore dell'autentica fede guardati bene da costoro al loro numero appartengono certi tali adesso sentirete quest'ultima pennellata che anche in cui paolo usa anche l'ironia il sarcasmo intinge un po il suo calamo anche in questa dimensione che non gli è del tutto estranea dobbiamo dire perché paolo tante volte è sarcastico nei suoi scritti al loro numero appartengono certi tali che entrano nelle case e accalappiano donnicciole cariche di peccati mosse da passioni di ogni genere che stanno sempre lì ad imparare senza riuscire mai aggiungere alla conoscenza della verità questo è un atto d'accusa naturalmente ancora venato se volete di antifemminismo però naturalmente vedete sui doppi fini di questi maestri acclamati i quali vengono accolti da queste donnicciole che hanno magari interessi di altro genere nei confronti dei predicatori e che soprattutto si mostrano sempre desiderosi di imparare mentre in realtà non capiscono nulla assolutamente si tratta di una bella denuncia anche dei nostri ascoltatori nelle nostre prediche forse anche nelle qui non soltanto per le donnicciole ma anche per una massa di persone che si ascoltano sono sempre forse anche desiderosi di ascoltare però non giungono mai alla conoscenza della verità che deve essere invece l'unica missione l'unico scopo ultimo elemento col quale concludiamo e a quest'ultimo elemento abbiamo visto ricordate primo tema il tema teologico la salvezza in cristo gesù noi facciamo parte di un disegno che ci trascende secondo il pastore il vero pastore cosa deve fare deve insegnare e non le favole insegnare la sostanza del messaggio insegnare le parole autentiche anzi la parola terzo viviamo purtroppo in una comunità ecclesiale che ha nell'interno banalità ha nell'interno religiosità decadente e ha all'esterno ma nell'interno anche ormai si riflette questo esterno ha una un bel corteo di vizi che vengono tranquillamente praticati l'ultimo elemento è invece quello che voglio leggere è forse la pagina più bella della lettere pastorale è sicuramente la pagina più intensa ed è il testamento in senso stretto di paolo cioè il suo ultimo saluto e facendo l'ultimo saluto a questo discepolo amato paolo descrive anche se stesso in quei momenti che sta vivendo e sono gli ultimi momenti della sua esistenza egli sente lo diceva in apertura sente già che alle sue spalle sta per muoversi la mano che lo conduce verso il destino della morte e del silenzio anche se vedremo questo destino di persecuzione di sofferenza di silenzio paolo lo descrive come se fosse e sarà l'ultima parola in pratica una grande epifaneia una grande epifania di luce e capitolo quarto sono i versetti 6 8 prima di leggerlo vi voglio ricordare che paolo qui usa quattro immagini e queste quattro immagini tra l'altro alcune ricorrono anche nell'interno della lettera comincia a partire e a descrivere la sua vita così la mia vita è stata come quando voi andate nei tempi anche nei tempi pagani vedete o nella nei sacrifici del tempi del tempio di gerusalemme quelli di origine giudaica andavate e vedevate che il sacerdote versava o sulle vittime o su un bracere versava olio versava vino versava acqua versava gli aromi ebbene una volta che cadevano sull'incandescenza di quei carboni ecco che tutto esalava verso l'alto il verbo che egli usa il verbo tecnico spendo greco per indicare il sacrificio di libagione di libazione offerta a dio ecco la morte che paolo ormai sente come imminente è per lui ha per lui un aspetto sacrificale è come se fosse il sigillo di tutta la sua vita è come se tutto se stesso tutta la sua storia venisse presa e fatta esalare verso l'alto salisse verso dio abbandonando questo orizzonte lasciando solo le scorie qua giù e diventando invece tutto e soltanto vapore che sale verso l'alto e verso il mistero di dio seconda immagine la seconda immagine quella dell'analysis che è passibile di due interpretazioni anche se una è la dominante sciogliere le vele naturalmente prima di tutto l'immagine di sciogliere le vele che cosa comporta comporta sicuramente la nave la nave la quale sta per salpare dal porto sta per indirizzarsi in un'ultima navigazione pensate tutte le navigazioni che ha avuto paolo quando ha fatto un naufragio a balta tutti i viaggi che ha fatto per mare e ora in questo momento comincia per lui l'ultima navigazione ma è la navigazione nel mare di dio nel quale si scoprono sempre nuovi mari ed ecco allora la prima prima interpretazione oppure l'altra che invece è nomadica sciogliere le vele potrebbe anche indicare il levare le tende per la partenza per cominciare questo pellegrinaggio per il mare del deserto terza immagine quella militare l'immagine della battaglia io ho condotto una vita sempre da battagliero sempre da combattente sempre da lottatore ed è stato proprio così la vita di paolo ed egli lo dice anche prima nell'interno del capitolo secondo diceva al suo discepolo a timotio insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenza come un buon soldato di cristo gesù nessuno però quando presta servizio militare si intralcia nelle faccende della vita di comune nella vita comune se vuol piacere a colui che l'ha arruolato per indicargli che è un servizio duro che non permette compromessi con la vita quotidiana e sappiamo d'altra parte che in altre lettere paolo descriverà il cristiano come rivestito di un'armatura che non è certo quella offensiva che semina morte e sangue ma invece l'armatura dolce e luminosa delle virtù la battaglia ultima immagine è l'ultima immagine che paolo usa sempre nel capitolo quarto i versetti 6 8 in questo testamento è l'immagine della corsa nello stadio paolo ha amato alcune volte l'abbiamo visto anche noi nella scrittura paoline usare immagini sportive immagine del pugilato per esempio nell'interno della lettera i corinzi e qui invece immagina quella corsa una corsa frenetica e questa corsa frenetica però non è verso il nulla non è come un fiume che sta precipitando in un abisso è invece verso una meta che è un luminosa e là c'è il signore con la corona una corona non dall'oro ma una corona immarcescibile tra l'altro anche questo tema della corsa era presente nel capitolo secondo al versetto 5 anche nelle gare atletiche non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole c'è l'idea almeno di una gara e della corona tra l'altro se noi lo ascoltiamo in greco quest'ultima frase la frase della corsa è fatto da paolo in rima è come se scrivesse probabilmente preso dalla passione scrive quasi in poesia lo sentite anche voi anche senza conoscere il greco ma lo sentite tondromon tetelica tempistin tetereca la corsa tondromon tetelica ho portato a compimento tempistin la fede tetereca ho conservato e allora a questo punto non ci rimane che salutare questa lettera in attesa della prossima lettura che sarà dedicata alla lettera di tito non ci rimane che salutarla proprio ascoltando paolo sarebbe bello sentirla naturalmente nel greco per immaginare in qualche modo la voce stessa di paolo che fa questo saluto a questo discepolo noi lo ascoltiamo comunque in traduzione e vi prego di rivedere queste immagini che passano davanti ai nostri occhi e sentire anche l'abbandono la tenerezza la forza la serenità dell'apostolo che è con le mani legate che è in carcere in catene la libagione lo sciogliere le vele la battaglia e la corsa con l'ultima parola dicevo l'epifaneia la grande manifestazione del signore nostro gesù perché tutta questa corsa e tutto questo viaggio ha come meta l'abbraccio con lui che lo attende là lontano al di fuori delle mura di quella prigione romana nella quale egli si trova quanto a me il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele ho combattuto la buona battaglia ho terminato la mia corsa ho conservato la fede ora mi resta solo la corona di giustizia che il signore giusto giudice mi consegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua epifania la sua manifestazione grazie io cerco te signore E di te siete il mio cuore Come un deserto cerca l'acqua Cerco te, Signore Solo a te il mio canto innalzerò Finché io ti benedirò Alle tue mani le mie mani Finché io ti benedirò Finché io ti benedirò